L'organizzazione Puglia Centro America è nata quasi per gioco. Sono arrivato negli Stati Uniti d'America nella mia qualità di cantante d'opera, di tenore lirico, e sono sempre stato coinvolto nelle iniziative benefiche. Per ogni evento benefico che ho cominciato a fare ho potuto automaticamente promuovere anche la Puglia, o se vogliamo, una parte di essa. Ci siamo aperti a delle idee innovative che hanno dato a noi la possibilità di promuovere la Puglia anche dal punto di vista turistico e perché no, anche dal punto di vista commerciale, sempre in creazione di eventi che vanno a supporto di organizzazioni internazionali e delle giuste e buone cause. La Puglia Centro America promuove la Puglia attraverso accordi, se vogliamo, che noi abbiamo fatto con le istituzioni locali e comunque istituzioni americane, dal punto di vista artistico e dal punto di vista proprio politico. La Puglia Centro America promuove la Puglia è molto importante perché è un linko tra l'Italia e l'America, se non è in New York e Westchester County e la Puglia regione, o, anche, la gateway tra Puglia e la resta dell'Unione 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 dell'Unione. It's a great resource for information, it's a great resource for connections. It's an opportunity for businesses, by the way, to be able to connect with the businesses in the Puglia region of Italy. And there's great opportunities there in tourism, in wine, in food, a lot of different opportunities that if you don't know about it, you're not going to take those opportunities. Ma se hai un risultato dove puoi sentire con qualcuno, ricevere un po' di ricerca e magari anche un po' di pomeriggio su chi vuole vedere lì, è dove le persone smart business hanno un nuovo mondo che possono ottenere a loro che probabilmente non erano conosciuti. Credo che il Puglia Center d'America è una grande opportunità che probabilmente è stata inutile per molto tempo. Ma ora che il segretto è fuori, le persone dovranno, spero, fare questa connessione e questa connessione. Il prossimo anno, come noi sappiamo, è l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti d'America. Quindi si è scelto di promuovere l'arte pugliese che verrà narrata, se vogliamo, ai nostri amici americani attraverso la pittura. La nostra partnership con il Puglia Center d'America è una molto importante perché, dopo tutto, l'Italia è il centro del renaissance, è il centro della cultura in Europa e il Puglia Center porta una meraviglia dimensione a Westchester e tutto ciò che facciamo qui. I prossimi progetti sono il primo festival musicale dedicato alla pizzica e presenterà, dal punto di vista educativo e comunque in lingua inglese, quello che è la pizzica, la sua storia, da dove è nata fino ai giorni d'oggi. Abbiamo anche in mente di fare dei progetti educativi dal punto di vista alimentare, abbiamo anche in previsione di fare degli altri concerti. uno dei nostri partner più importanti, mi piace citarlo, è proprio il John D. Calando Italian American Institute. Quanto è importante un'organizzazione come Puglia Center of America? Importantissimo, perché? Per motivi ovvi, perché ricollega i pugliesi fuori dall'Italia con la Puglia, con l'Italia con la Puglia. Però cosa c'è di particolare del Puglia Center of America? E' che il Puglia Center of America, il presidente e fondatore Luciano Lamonarca, ha capito una cosa, ha capito la necessità di collegare la cultura, sia con la C maiuscola o minuscola, con il mondo commerciale e il mondo sociopolitico. Questo è un aspetto che secondo me manca qui negli Stati Uniti nella comunità italiana. E quando dico italiana parlo anche, parlo specificamente anzi degli americani di origine italiana. Il Puglia Center of America è stato molto importante perché il Puglia Center of America e Luciano, che era il più grande del termine di cui, è stato iniziato come un istituzione culturale, ma la definizione della cultura è stata così broad. Che è stata un'educazione, la strumenta della humanità, la arte, la cucina, la cultura. Il Puglia Center of America ha fatto 3 maggiori attenziate in questi ultimi anni, Il primo è l'United Academia, bringing in un gruppo di università in Italia con università in gli Stati Uniti. Il secondo è la creazione di l'educazione per il medio dell'artico, per l'exhibitorio in New York, anche per l'United Nations, di talenti artisti che sono incondenziali e davanti, che è quello che vogliamo la scuola a essere. E il terzo elemento, e il più importante, è il senso che l'educazione può essere un gioia, può essere un divertimento, sia per la musica, che Luciano personizza, e anche il fatto che i studenti, i facolti, i leader di università, possono tutti share una partnership in servire l'United Nations e la sua missione, mentre essere true al loro principale di essere professori e studenti. La Puglia Centro America è un modo nuovo di fare promozione della Puglia. Puglia Center for America is a wonderful organization that allows us to reach out to the Italian people in a very beautiful cultural way. The Puglia Center for America is really an opportunity. It's an opportunity for partnerships. It's an opportunity for businesses to connect. It's an opportunity for cultural exchanges. It's an opportunity to see a world away from you that you probably know exists because you've read about it. You know the big cities in Italy. but Puglia in Italy is an area that if you have a bucket list, put it on because Puglia is an amazing place in this world. So go visit Puglia and let the Puglia Center for America help you get there. Il Puglia Center for America per me è aprire una finestra nella cultura pugliese e riallacciare i rapporti con tanti amici che sono stati così importanti nella mia vita qui negli Stati Uniti. Il Puglia Center for America è una strada diretta, una via diretta, senza deviazioni alla cultura italiana, alla cultura pugliese e all'Italia in generale. E questo secondo me è un aspetto unico del Puglia Center for America.